Cateno De Luca, il grande giorno è arrivato, un bagno di folla a Milano, Sud chiama Nord, il trionfo del civismo, l'Italia unita. Oggi è un giorno importante perché finalmente si realizzano dei miei sogni. I civici riescono a realizzare una rete nazionale, questo progetto civici movimento, tu sei un pilastro fondamentale perché hai la responsabilità nazionale dell'organizzazione e per me è importante mettere assieme realtà del Sud e del Nord che vogliono rimanere civici ma vogliono anche partecipare a quelle che sono le competizioni ai livelli superiori e quindi consentire ai propri elettori di potersi esprimere in modo continuo. Finalmente questo si è convinto. La nostra storia, il nostro passato di civici sempre dalla stessa parte, civica. Questo ci fa farire anomali, noi siamo strani perché non ci siamo mai spostati, e chi dice che siamo soggetti strani ha ragione. Quella sana pazienza di cambiare l'Italia. E caro mio sì, ma ovviamente rimanendo su anche noi stessi. E ci salutiamo con un gesto. Che significa? Se mi sfidi io reagisco e ti cavo l'occhio. Un abbraccio.